Bentornati su MyFootballGersey. Sale la febbre da Coppa del Mondo e quindi continuiamo a vedere le maglie delle squadre che giocheranno i prossimi mondiali. Questa è la maglia della Spagna, la seconda maglia, e in versione player la maglia indossata dai calciatori. Pronto a conquistare il mondo. La grafica ondulata di questa maglia adidas trae la sua dinamica ispirazione dal logo in stile art deco che accolse il meglio del calcio in Spagna nel 1982. Al centro del petto le versioni applicate a caldo del nuovo logo adidas, lo stema della Spagna aggiornato. La maglia away adidas Spagna 2022 sarà caratterizzata da una base azzurra. Il nome dato da adidas a questa brillante tonalità di blu è glow blue. La divisa da trasferta della Spagna è in realtà elencata come glow blue, glory blue, con glow blue che ha una tonalità di blu più chiara. Creata per le esibizioni dell'it del campo, questa maglia include anche il raffreddamento heat ready. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende tre stelle. I colori sono molto belli, questa fantasia particolare diciamo così non è una delle mie preferite però devo dire che la maglia è fatta benissimo, perfetta in tutte le rifiniture con ogni dettaglio al posto giusto. Qui in alto vedete il costo che per una maglia fatta così bene e con dei tempi di spedizione così veloci, questa è arrivata in meno di 15 giorni, è veramente un affare imperdibile. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora prima di lasciarvi alla parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player